Il divario fra nord e sud non diminuisce, anzi, cresce e i dati del 2023 non sono certamente confortanti per il mezzogiorno. Secondo uno studio di ConfCommercio sulle economie regionali, il dato sul PIL racconta bene questa realtà. Scorrendo la graduatoria per regioni e zone geografiche a fronte di una Lombardia che fa segnare 1,7 e un nord che si ferma a più 1,4, la Calabria fa registrare infatti crescita 0 nel 2023 e meno 0,7 nel triennio 2020-2023. Va leggermente meglio al mezzogiorno che fa segnare crescita pari a 0,5 nel 2023 ma 0 nel triennio 2020-2023, lontano ovviamente dai dati del nord Italia. Divario anche per i consumi al sud con uno 0,4% mentre il nord si ferma a 1,2. Chiedere agli investimenti il PNRR, scrive ConfCommercio, di modificare rapidamente questo stato di cose sarebbe ingenue assurdo ma investimenti e riforme possono aprire la strada a un processo di convergenza o almeno, e fin da subito, potrebbero arginare la tendenza alla divergenza. Anche nel settore lavoro un dato particolare riguarda quello degli occupati al sud, il numero inferiore rispetto a quelli di 30 anni fa. Il mezzogiorno quindi fa segnare un cao del 1,7% contro, a esempio, il 13,1% del centro. Il peggior dato è proprio quello della Calabria che fa segnare un meno 7,2%.